Vediamo, vediamo, parliamo di malgascione che vanno con gli uomini sposati. Ma non è il problema tanto di andare con un uomo sposato, questo non c'è nessun problema. Il problema è quello di credere che un uomo sposato possa, possa innamorarsi di te. E non è che in assoluto è impossibile che un uomo sposato si possa innamorare di te. Non è che questo in assoluto non può accadere. Ma siccome la storia delle malgascione, la storia principale delle malgascione è quella di stare con un uomo sposato che gli dice che lascerà la moglie, che gli dice che la ama, ma poi non lascia la moglie, sembra strano a dirsi, ma un uomo sposato che sta con la moglie, pur se tradisce la moglie, pur se la tradisce, non è vero che non ama la moglie, ama la moglie e non ama te. A te dice di amarti, ma la moglie l'ama veramente. E poi il commento che fanno le malgascione è, vabbè ma se ama la moglie, se amasse la moglie non la tradirebbe. Non è vero niente. Perché per una donna e per un uomo, questa è una delle differenze principali che esistono tra uomini e donne, per una donna il sesso e l'amore vanno un po' più di pari passo. Poi non per tutto, ovviamente sono tutte le escort che lo fanno senza amore, ma nel principio per una donna, diciamo, proprio per una questione filogenetica, riproduttiva, istintiva, oserei dire, sesso e amore sono più uniti. Ma per un uomo sono completamente diversi. Cioè, pensate, gli uomini, c'è la fila di uomini sposati che vanno a mignotte. Cioè, perché la maggior parte degli uomini sposati vanno a mignotte. Ma io dico, no, non è vero, il mio marito, ma il tuo marito farà come tutti gli altri. Altrimenti non si spiegherebbero, diciamo, nelle nostre strade italiane che ci sono più mignotte che pali della luce, diciamo così, anche proprio in mezzo alla strada, intendo. Quelle da parcheggio del cimitero. Non è che questi, quando vanno con una mignotta, si innamorano. Non si innamora neanche la mignotta, ma lei lo fa per soldi, lui. Quindi, qual è il concetto di fondo? È che per un uomo è una cosa completamente diversa. Quindi è importante rendersi conto di questo, che se un uomo sposato, di cui tu sei l'amante, ti dice che ama te, ma non lascia, ringrazio Alessandra, ma non lascia la moglie. Non lascia la moglie e ti dice che non la lascia soltanto perché ci sono i figli. oppure ti dice che non la lascia perché, diciamo, ci sono delle abitudini, delle questioni economiche, delle questioni finanziarie, tu devi tenere presente che questo è soltanto una finzione. e in realtà, statisticamente, un uomo sposato lascia la moglie per l'amante se lo fa al massimo, al massimo entro sei mesi. Ma proprio al massimo, dopo i sei mesi non c'è più possibilità, non la lascerà più. Quindi, se tu sei sposata, se tu sei sposata con, cioè se tu sei l'amante di un uomo sposato che non lascia la moglie, non la lascerà più, poi magari non la lascerà per te. Poi magari si innamora di un'altra e la lascia subito. Ma non per te, perché tu non sei stato in grado di farla innamorare. Allora, come fare innamorare un uomo sposato? Questo è un po' qualcosa che potrebbe interessarvi, visto che tanto tra malgascione e sciampiste avete tutte relazioni con uomini sposati, perché solo gli uomini sposati vi prendono in considerazione, gli altri non vi prendono neanche in considerazione. E stavo dicendo, se vuoi far innamorare un uomo sposato, devi instillare subito il dubbio che quando lui sta con la moglie tu sei in monta con qualcun altro. Non tu sei a casa a piangere, sei a casa a dire chissà, chissà perché sta con me, perché non sta con me, sta con la moglie, cosa farà con la moglie. Questo è quello che fanno tantissime malgascione. È sbagliatissimo. Se tu vuoi relazionarti con un uomo sposato, devi assolutamente avere altri uomini. Non puoi andare solo, soprattutto se tu sei single, devi avere altri uomini. Ma è diverso il rapporto in cui entrambi sono sposati, allora quello lì è un rapporto più sano, perché si fa soltanto entrambi per trasgressione, nessuno dei due vuole lasciare il marito, non venire fotto un cazzo a nessuno dei due, l'importante è farsi passarsi una serata, diciamo così, di musica e magia e basta. Quindi se tu, ma invece se una delle due è single e spera, no? Spera che questo possa lasciare la moglie, la speranza, deve per fare questo, per aumentare la speranza, deve andare con altri uomini, deve avere almeno tre uomini se sei single e lui deve pensare che quando è a casa con la moglie, magari o quando va a fare shopping con la moglie o quando sta lì assieme alla moglie, tu sei in monta con qualcun altro. Soltanto in questo modo riuscirai a creare, diciamo così, quelle condizioni, quelle condizioni che faranno sì che lui si innamorerà di te, che lui si coinvolgerà con te. Non ci sono altre possibilità. Se tu speri che lui si innamori di te perché tu sei devota, perché tu gli sei sempre a fianco, perché tu non gli rompi i maroni quando lui sta con la moglie, bene, perderai la cosa più importante che hanno gli esseri umani, l'unica cosa che non è, come dire, riconquistabile. E questa cosa è il tempo, perché ognuno di voi ha un tempo, ognuno di noi, ha un tempo limitato, la vita è limitata. Una persona che vive già abbastanza lungo, 80 anni, ha circa 30.000 giorni. Mettiamo che togli quelli della vecchiaia, quelli dell'infanzia, te ne resteranno più o meno 15.000 di giorni. Quindi, questi 15.000 giorni buoni, diciamo così, non è che sono tantissimi, se ci pensi, 10-15.000 giorni. Ogni giorno che vai a dormire è un giorno di meno che tu hai a disposizione. E quindi, quello che ti conviene fare è veramente evitare di stare con persone che, diciamo, ti fanno perdere tempo. E la cosa importante è quella di dare valore alla tua vita, dare forza alla tua vita. E quindi, manda a fanculo le persone di questo genere e trovati altri. Interagisci con tante persone. Questo, avere tanti amanti, diciamo, è l'unico modo di far innamorare un uomo sposato. di far sì che si possa coinvolgere con te e possa finalmente togliersi dai coglioni la moglie, che diventa una palla al piede, insomma. Prova a seguire questa indicazione e vedrai che le cose andranno sicuramente per il meglio. Per intanto, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, e su tutti i miei canali YouTube. Vatti a iscrivere, cara Malga Shona, è gratis. Anche se sei barbona, puoi iscriverti tranquillamente.